Urca bilurca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Diciamo di sì o meglio non so ancora cosa ci sia in questo pacco ma penso di capire la consistenza Cosa possa essere e l'avete anche capito dalla videatura e dal titolo ragazzoni Comunque siamo qui oggi ragazzoni per spacchettare questo qui e vedere cos'è e se è quello che penso io Unboxarlo e mostrarvi tutto il contenuto Quindi ragazzoni io direi di di stare subito ma prima un bel pollicione in su Codividete il video con tutti i vostri amici iscrivetevi e attivate la campanellina Io ragazzoni direi di iniziare immediatamente con l'unboxing Attenzione incredibile spacchettamento assurdo incredibile Oh è lui 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 è il super mega incredibile Fortnite pack raga il mega starter pack Che figata raga aspetta fatemi vedere qua dentro qualcos'altro No mi sa che non c'è più nient'altro E eccolo qua ragazzoni fortnite mega starter pack Comunque si qua c'è un forum con l'incredibile mega galattico Quindi a parte questo eccolo qua raga il mega starter pack Cosso di fortale che bello bellissimo raga la copertina è fighissima 11 euro 90 io l'ho pagato ovviamente 16 euro perché l'ho dovuto prendere su ebay Quindi gg per me ho aspettato 4 euro in più invece che andare in edicola a prendere Ma comunque ragazzoni eccolo qua Fortnite serie 1 panini Qua contiene mega starter pack super raccorditore 6 bustini più una bonus card Buono 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 Non è che è talmente bella la copertina che non voglio neanche aprire Cioè vorrei tenerlo così Lo tengo qua così Lo prendo da qualche parte Che c'è la cosa qua da prendere Lo metto qui in esposizione Raga è veramente fighissimo Cioè la bustina non si può aprire raga Nel senso è bellissima Vabbè dai a parte gli scherzi ragazzoni direi di aprirlo Però senza ovviamente rovinare la busta Speriamo di non fare cavolate Con calma Allora vediamo un po' cosa ci troviamo dentro ragazzoni Vediamo un po' Andiamo di farlo vedere un pochino meglio a tutti Allora abbiamo un super mega albunozzo Ecco lo qua ragazzoni guarda che figata Wow ragazzoni fighissimo Fighissimo raga Dentro qui c'è qualcos'altro Quindi andiamo ad unboxare Ah ragazzuoli 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 Ci sono le sei bustine Bonus card giusta bene Uh che figata raga guardate Ah Raga LOL Guardate un po' ragazzoni Fortnite bustine dei panini E la bonus card raga La bonus card che avevo visto qualche unboxing di questo qua Quindi sapevo più o meno cosa c'era dentro Vabbè c'era anche scritto sul coso Però avevo visto su youtube altri unboxing del genere E avevo visto che trovavano tutti un'altra carta Cioè trovavano tutti quella viola La ginnasta Quella viola epica Non so come si chiami Ma comunque io mi sa che La 220 Heidi raga Ho trovato Heidi Quella sbrilluccicante Cg raga mi piace sicuramente di quella lì Di quella ginnasta Eh viola Comunque ragazzuoli Io direi di spacchettare Che al stesso per Sei bustinozze Anche queste Non vorrei spacchettare Perché sono talmente belle ragazzuoli Che non vorrei nemmeno spacchettarle Ma vabbè Dai Sei bustinozze per noi Io direi Di Di spacchettare Di spacchettare tutto E provare a vedere Dove andranno Quindi boys Apriamo questa qui Che è quella più rara ragazzuoli Che ho trovato Meno male non ho trovato appunto Come ho detto prima La ginnasta epica Perché Non mi piaceva Non mi piaceva Oh wow che figata ragazzuoli Guardate che figa Bella questa Veramente veramente carina Comunque Iniziamo con questa qui ragazzuoli Iniziamo con questa qui Oh raga Ce l'ho Cristo fatta Ce l'ho fatta E vabbè Ma tutte le parti che giro C'è una carta E allora boh Mi spoilerò Mi spoilerò questa Ah questa è il dietro Il dietro Il dietro E però mi spoilerò comunque qui Vabbè comunque ragazzuoli Prima carta Ui la pistola La pistoletta ragazzuoli La pistoletta galliardissima Quindi pistoletta Uuu L'albitro Quello del calcio insomma Questa invece È una schermata di caricamento Cos'è sta roba Una common Ah Perfetto Comune ragazzuoli Non so cosa sia Epica Bella ragazzuoli epica GG ragazzuoli Guardate che figata Poi abbiamo Questa qui Che La risoluzione Diciamo che non è Una delle migliori Però GG Common Ah anche questa Comune ragazzuoli Guardate qua che figata Bella galliardissima Anche questa E infine Uuu Questa è bella Questa è bella Il first strike specialist Guardate che figo Guardate che figo Perfetto Quindi il primo pacchetto Poi fatemi sapere qui sotto In commenti Se magari qualcuno di voi L'ha già acquistato Si qualcuno di voi Ha già avuto In mano Queste figurine Sa più o meno come funziona E quelle che ho trovato Magari ditemi se Le ho trovato Se ho trovato Le carte buone Oppure no Comunque ragazzuoli Secondo pacchetto Stiamo giocando di aprirlo Ma è qualcosa Tipo impossibile Mi piace Ehm Che ho trovato Che c'è Ho trovato Portano Assicurati Calque Ho trovato Pot наш Torno Assicurati Poi Qui Ho trovato Quindi Parli Poi 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 Postano Sicalmente Ma Questa Poi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.